Tonino Lamborghini ha conquistato tutti con il suo savoir-faire, la sua ironia e la sua classe e lui stesso è rimasto colpito dall'accoglienza riservatagli. Bellissimo il borgo, bellissimo, chiamiamolo, paese che è improprio, bellissimo il museo, bellissimo la torre, insomma, mi sono anche divertito a fare qualche bella foto, non immaginavo sinceramente, conoscevo, conosco la zona, ma non conoscevo Castiglione Fiorentino la Toscana, questa parte di Toscana, questa parte confinante con l'Umbria, perché in qualche misura siamo legati all'Umbria. Doverosa una riflessione sul momento attuale del mercato dell'auto. Il lusso si salva? Sì, il lusso si salva soprattutto quando è un lusso tecnologico, perché non basta l'estetica, ci vuole come una bella donna, se non hai l'anima puoi essere bella finché vuoi, prima o poi diventi vecchia, sei meno bella, ma è quello che c'è dentro, e quindi per un'automobile, ma per tutta la tecnologia. Sindaco, un esempio da seguire dal punto di vista imprenditoriale, senza dubbio. Pronunciare questo cognome significa eccellenza, eccellenza per quello che è stata questa dinastia che sta proseguendo, trattori, auto e tutto quello che questo gruppo sta ideando, progettando con delle soddisfazioni nel mondo. E questa è la finalità del nostro premio.